Un saluto a tutti, accanto a me Lars Schlichting, amministratore delegato di Poseidon, nonché presidente della giuria di questa due giorni Ice O Race che si è tenuta qui a Lugano al Palazzo dei Congressi. Allora, ci sono già i vincitori, è tutto finito, si fa per dire, come avete potuto scegliere questi tre migliori? Non è stato per niente facile, tant'è che i punteggi erano veramente molto vicini, erano progetti molto diversi l'uno dall'altro, con anche dei modelli di business, un team, un target, veramente diversissimo. Ci puoi dire il primo, il secondo e il terzo, proprio dirci chi ha vinto. Il primo, il vincitore è Pigsby, che indovinate, è una ICO che vuole portare le criptovalute, ma soprattutto l'educazione a gestire criptovalute e gestire i soldi ai bambini. Dunque, con un'applicazione, il bambino riceve la paghetta, invece che ricevere semplicemente la paghetta, il genitore dà la paghetta all'interno di un'applicazione sul telefonino, il bambino giocando, recupera questi averi, impara a gestire le criptovalute e a metterle anche su un cold wallet e impara a gestire i soldi. Benissimo, quindi una cosa educational sostanzialmente, che guarda molto al futuro. Cosa hanno vinto? Vogliamo ricordarlo? Allora, hanno vinto niente po' di meno che 600.000 franchi, o meglio, saranno acquistati per 600.000 dollari i token della loro ICO e la quotazione su uno dei più grandi exchanger del mondo, che è Bitfinex. D'accordo, i secondi classificati? I secondi classificati sono MetaLife, che è un progetto molto interessante legato al mondo social e a creare dei legami all'interno del social, di far generare anche dei redditi per chi partecipa al mondo dei social. Dunque, si tratta di ritornare un po' in possesso dei propri dati, se vogliamo. Quindi il mondo dei social inteso proprio come i maggiori social network o anche terzo settore volontariato con il discorso lì? No, nel senso di social network. Dunque, io do informazioni ai social e queste informazioni, questi dati devono sfruttare un reddito a me più che a altri, come sta succedendo in questo momento. Benissimo, terzi classificati? Allora, terzi classificati, Desio, che è un SEO che vuole creare un exchanger per criptovalute un po' diverso dagli altri perché deve essere un exchanger securities, dunque che permette di quotare anche quei token che sono qualificati come securities. Un progetto molto ambizioso perché sappiamo quanto è difficile ottenere questa licenza, ma che abbiamo voluto premiare perché è uno dei tasselli che manca per far esplodere l'economia della blockchain. Quel giorno che avremo l'exchanger securities, ecco, siamo convinti che ci sarà veramente un boost di prodotti finanziari che andranno a essere messi sulla blockchain. Ecco, in due parole, i criteri con cui avete scelto, creatività, capacità di sviluppo tecnologico, modello di business, cos'è che ha premiato un po' di più? Allora, abbiamo scelto secondo cinque criteri, il team, dunque la composizione del team, il token model, dunque come loro, la token economics, come il token genera reddito, la soluzione del problema che loro hanno identificato, la struttura legale dell'ICO e il pitch, dunque come hanno presentato il tutto. Ecco, il presidente della giuria che cosa dice alla fine? Si è divertito, gli è piaciuto, l'ha incuriosito, l'ha interessato? Allora, interessante sì, ho dovuto valutare in due giorni 44 ICO, vi posso garantire che sono un po' stremato, però sicuramente è stato molto utile per capire le modifiche, i cambiamenti che ci saranno nel nuovo mondo, cosa porterà alla digitalizzazione e penso che questa è una cosa che il pubblico deve prepararsi, stiamo veramente vivendo, questo è l'inizio della rivoluzione digitale, il modo in cui i nostri figli vivranno nella società e lavoreranno sarà completamente diverso da come lo stiamo vivendo noi. Benissimo, allora un'ultimissima domanda, si può già dare un prossimo appuntamento per ICO Race? Non sono stato informato ufficialmente ma sembrerebbe che a gennaio 2019 lanceremo la seconda edizione. Se non sbaglio a Zugo. Zugo o Zurigo? Zugo o Zurigo, va bene, vedremo, grazie mille a Lars Schlichting, a Didi Poseidon, amministratore delegato del gruppo Poseidon, presidente della giuria e insomma un saluto a tutti e arrivederci. Grazie a voi.